Benvenuti a questo nuovo video nel quale, come potete vedere dal titolo, vi voglio mostrare come si installa Ubuntu su un disco esterno, quindi non sul disco principale del vostro PC ma su un disco esterno. Ecco, e si tratta di un tema suggerito perché uno di voi che seguite il canale mi ha chiesto espressamente di presentare come effettuare questa operazione. E in effetti questo è un modo per avere sempre con sé Ubuntu perché fra le varie opzioni di installazione può far comodo proprio avere sempre con sé a portata di mano il sistema operativo preferito. E che naturalmente avendo con sé il disco con tutto il sistema installato lo si può portare ovunque, non si intacca il sistema originale del PC che viene poi usato per far partire il sistema residente sul disco esterno e si può usarlo ovunque proprio per questo motivo. Dunque, si tratta di un'installazione come ho detto nel titolo di Ubuntu su un disco esterno, quindi ci si deve procurare un disco dedicato a questo scopo, un disco con una connessione ovviamente preferibilmente USB perché è uno standard diffuso ovunque, si trova dappertutto un PC con almeno una presa USB libera e quindi è importante procurarsi un disco esterno appunto con una presa USB. E bisogna pur dire che oggigiorno sono in commercio dischi molto capienti, addirittura fino a un terabyte se non di più non lo so, io sono arrivato a vederne di un terabyte con una presetta USB e basta. Quindi non richiedono neanche più un trasformatore e una presa elettrica propria per poter funzionare, ma i dischi di oggi sono veramente tascabili. Si può avere un terabyte in tasca, ma anche naturalmente non è necessario spendere per un disco così grosso per avere il nostro Ubuntu installato che richiede meno di 4 giga per poter essere installato, quindi si può anche comprare un disco più modesto, giusto per avere in tasca il proprio sistema operativo. E l'importante, ripeto, voi avete in tasca un disco o avrete in tasca un disco col vostro Ubuntu installato e potrete connetterlo a un qualsiasi PC che trovate, che ne so, in un bar, che trovate in ufficio, che trovate non so io dove, fate voi o anche il vostro PC di casa, qualsiasi PC potete connettere appunto, potrete connettere questo disco che a questo punto è come fosse un PC installato, quindi c'è tutto sistema indipendente isolato sul vostro disco esterno e dunque non intaccate minimamente il disco originale del PC al quale vi connettete, quindi anche il PC dell'amico non deve temere nulla perché appunto tutto Ubuntu funzionerà, anche l'archiviazione dei vostri documenti e dati funzionare su questo disco esterno e non intaccherete appunto il disco originale del PC, quindi se anche un PC con Windows, che so, addirittura un PC, un Mac, ecco un Mac con una presa USB, perché no, potete connettere il vostro disco con Ubuntu e avviare il PC da quel disco e avrete il vostro sistema, quindi in sostanza il PC cosa fa? Vi mette a disposizione tutto tranne il suo disco rigido principale, quindi naturalmente connettete il disco esterno al PC, avete a disposizione la tastiera, il touchpad, il mouse, le prese USB ulteriori, interfacce, il video, la scheda video ovviamente grafica, il video tutto quanto, ma non ovviamente l'uso diretto del disco del PC principale, il disco principale del PC perché questo lo sostituite con il vostro disco esterno, ecco questo è il bello di questa soluzione, che appunto essendo oggi dischi molto molto portatili, intascabili, diventa anche una soluzione decisamente comoda, invece qualche anno fa, per piccoli che fossero i dischi, richiedevano quasi sempre una presa di corrente propria per poter funzionare, ecco come il disco che sto usando adesso, per dimostrarvi come si fa, è proprio un disco vecchio, che è abbastanza piccolino, però lo devo connettere per conto suo con la presa, giorno d'oggi non c'è più bisogno neanche di questo, i dischi sono di tutte le grandezze e basta la corrente della presa USB per farli funzionare, quindi molto comoda come soluzione. Allora procediamo senza indugio, descrizione della procedura, allora cosa occorre fare? Uno ovviamente connettere ad una delle porte USB dei PC perché naturalmente i PC oggi ci hanno da, non so, da un minimo di due, ma credo che non ci sono neanche più PC con solo due presi USB, almeno tre ne hanno, quattro, cinque, non lo so, quindi prendete una porta libera e connettete il vostro disco esterno che avete deciso di dedicare a questo scopo, ecco è importante, almeno per facilitarci il lavoro, di non avere un disco già occupato da qualcos'altro, che bisogna partizionare in modo più complesso, insomma prendiamoci, visto che costano anche poco, un disco, lo dedichiamo a quello e basta, che almeno è tutto più semplice. Quindi cominciamo a connetterlo a una delle porte del vostro PC che usate per fare il lavoro, diciamo, di installazione. Due, quindi uno diamolo per fatto, due, connettere ad un'altra porta USB, una pennetta USB di quelle classiche, pennette USB, oppure al limite un CD, se siete abituati a lavorare con il CD, ma al giorno d'oggi credo che tutti o quasi tutti ormai hanno preso l'abitudine, non usano più né CD né DVD, hanno preso l'abitudine di usare queste pennette USB, preparata per poter far funzionare una sessione di Ubuntu Live, quindi per provare Ubuntu senza installarlo. Quindi se non sapete come fare, vi do il titolo del video sul mio canale, come creare una chiavetta USB avviabile, così vedete come si fa a preparare questa pennetta USB per far partire Ubuntu in sessione Live, quindi non installata. Quindi queste sono le premesse, avere ovviamente il disco sul quale vogliamo installare e una pennetta USB pronta per far partire Ubuntu che poi andremo ad installare sul disco. Operazione, avviare il PC facendolo partire naturalmente dalla pennetta USB e non dal suo disco principale. Questo lo si fa, ve lo mostro anche in questo video come creare una chiavetta USB alla fine del video, vi mostro come si fa a farlo partire, comunque sapete che ogni PC quando lo accendete, appena lo accendete, fa apparire di solito un paio di tasti funzioni tipo F2, F12, e uno di quei tasti funzioni è quello che serve per aprire il menu di scelta dell'unità disco dal quale far partire il PC. Per difetto i PC di solito hanno una sequenza che è l'unità disco CD DVD e poi il disco principale fisso del PC. Ecco, voi potete intervenire in questa sequenza già impostata per difetto da fabbrica, schiacciate quel tal tasto che io non vi posso dire è quel tasto perché ogni PC ha le sue tra virgolette abitudini, ogni costruttore di PC assegna ad un tasto diverso questo richiamo del menu per l'unità disco di partenza. E quindi, per esempio, sul mio PC, questo con il quale vi sto registrando questo video, il tasto è F12, ma magari per voi è F10, F9, ecco, quindi non posso dirvi precisamente quale. Dovete accendere il PC da spento e guardare velocemente perché resta pochi istanti visualizzato questo pre-menu e vedete in basso, di solito, nel lato inferiore del video, vedete indicati questi tasti funzioni 1 per entrare nel BIOS di solito, nel mio caso per esempio F2 per entrare nel BIOS del PC e l'F12 per attivare questo menu di scelta. Ecco, una volta che avete attivato questo menu di scelta, con le freccette su e giù, scegliete la vostra pennetto USB che avete già innestato al punto precedente. Fate partire, quindi Ubuntu preparato su questa pennetta e lui partirà. Adesso io per ragioni, diciamo, tecniche di registrazione del video, simulo che il PC sul quale state facendo questo lavoro sia questa mia macchina virtuale, ecco. Io ho, mettiamo l'inglese che è quello per difetto, come lingua ovviamente, ecco. Dunque, macchina virtuale perché? Perché ovviamente facessi questo lavoro effettivamente sul mio PC non potrei registrare il video, quindi simulo, appunto, nella macchina virtuale il PC sul quale state facendo il lavoro. Non cambia molto, è solo da pensare che in questa finestra è come fosse il vostro PC. Quindi, una volta avviato, se siete già abituati ad Ubuntu, sapete cos'è questa finestra, questa prima finestra di installazione che vi invita a o provare Ubuntu o installarlo. Ecco, nel nostro caso, vabbè, mettiamo almeno l'italiano. Diciamo che vogliamo provare Ubuntu, perché a noi serve solo la sessione Live, quindi non installare Ubuntu sul nostro PC, ma ci serve la sessione Live per poi far partire l'installazione. Ci serve la sessione Live per fare almeno una verifica prima di partire. Così aspettiamo, dunque, la mia macchina virtuale sarà un po' lenta, quindi dobbiamo aspettare un attimino che parta. Quindi, solo un attimo di pazienza, ecco che sta partendo. Arriva, arriva, con suo comodo, comunque arriva, garantito. Allora, eccoci qua, questa è la sessione Live di Ubuntu, tra l'altro ho scaricato un'immagine della 1304, cioè quella che verrà rilasciata nell'aprile prossimo, siamo ormai nel 2013, quindi 13, vedete, la prossima Ubuntu è il 13.04 aprile. Comunque non è questo che ci interessa oggi, ho scelto appunto di scaricare l'ultima versione, giusto per avere una pennetta USB all'ultima versione, ma è uguale. Avrei potuto anche usare la 12.04, ma non fa niente, per i nostri scoppi va benissimo questa. Ecco, ho avviato la Live, non subito l'installatore, giusto per verificare che il mio disco esterno, che è questo, fosse effettivamente connesso al mio PC, quindi fatto partire il PC nel mio caso, la macchina virtuale, preferisco non partire subito con l'installatore, ma entrare in sessione Live per verificare che tutto sia effettivamente pronto, che il disco è stato visto dal sistema e che è pronto, eccolo qua, un disco da 200 GB, ripeto, vecchio, lento, ma funziona bene didatticamente per lo scopo, se io apro questo disco, vedete che porta i segni della mia prova precedente, nel senso che qui in realtà io ho già provato ad installare Ubuntu su questo disco esterno, vedete che c'è tutto presente il sistema e forse vi posso anche mostrare che, vediamo un po' se riesco, già che ci sono, ecco, vedete, 3,2 GB usati, vuol dire che il sistema Ubuntu in quanto tale occupa meno, decisamente meno di 4 GB, quindi il sistema pulito appena installato, quindi fate conto che se invece di un disco vero e proprio esterno volete usare magari una pennetta USB per avere la vostra Ubuntu sempre con voi, che è ancora più tascabile, a giorno d'oggi ci sono le pennette USB ben capienti, da 16-32 GB, ci state tranquillamente col sistema, e io in questo caso do per acquisito che state usando un vero disco fisico, un hard disk vero, però nulla proibisce di installare il tutto anche su una pennetta USB bella capiente, che vi lascia in che posto per i vostri dati, quindi è uguale, sistema uguale l'installazione. Allora dicevo, ecco, il disco è già impostato, pieno di qualcosa, può essere anche un disco vostro che riciclate con su dei dati che avete già salvato altrove, non fa niente, non preoccupatevi perché ci penserà l'installazione a cancellare il tutto e a riformattarlo e ripulirlo. Quindi abbiamo visto che il nostro PC vede il disco sul quale vogliamo installare, è tutto pronto, quindi possiamo passare al punto 4, avviare l'installatore di Ubuntu, che è poi questo, nella sessione live, vi presenta l'iconcina qui, doppio clic, e facciamo partire la normalissima installazione. Diciamo che in sé la procedura di installare su un disco esterno non differisce granché dalla procedura normale di installazione sul vostro disco del PC, è in qualcosa differisce, ma non poi così straordinariamente, anzi. Eccoci qua. Allora, abbiamo avviato l'installatore e nel wizard installazione, quindi adesso dobbiamo fare i primi passi, qui è tutto uguale, tutto identico alla normalissima installazione, non è qui che varia l'installazione, ma fra un attimo lo vedremo, quindi avanti. Ecco, qui per accelerare l'operazione, già che è lenta la macchina virtuale, non metto questi visti che normalmente in un'installazione, come si deve, vale la pena mettere, quindi fate conto che io sto facendo un'installazione, non proprio ideale e ben fatta, per velocizzare un po' questo video, ma in realtà se la fate seriamente dovreste mettere per esempio quei visti. Ecco qua. Allora, primo avviso, l'installatore si accorge che c'è un'unità disco esterna montata, quindi vuol dire attivo, è quella che abbiamo aperto prima per vederne il contenuto e ci chiede se, per fare in modo che il programma di installazione possa disporre anche di questo disco, ci chiede se vogliamo smontarla, cioè sconnetterla temporaneamente, noi diciamo di sì, diciamo di sì e lui provvederà a staccare temporaneamente il nostro disco destinato ad Ubuntu esterno. Adesso aspettiamo che faccia i suoi ragionamenti. Eccoci qua. Allora, siccome io avevo già fatto una prova, questo passo dell'installatore non mi dice installa da zero, ma si accorge che c'è già una versione di Ubuntu installata, mi dice vuoi installarlo a fianco? No. Vuoi eliminare, installare e reinstalla? Potrebbe essere una soluzione in questo specifico caso, ma io faccio conto che come voi probabilmente riciclate un disco o nuovo, quindi vuoto del tutto, o magari con su dei dati che non sia necessariamente un sistema operativo. Questa è una situazione che può essere, potete avere anche Windows installato su quel disco esterno, quello che è, comunque vi faccio vedere la procedura standard che va bene sempre, senza guardare queste opzioni qua. La procedura standard che va sempre per svuotare il disco e prepararlo in ogni caso, in ogni situazione, è premere altro. Premiamo altro e andiamo avanti. Quindi la via che vi mostro è quella che va comunque sempre bene in ogni situazione. Eccoci qua. Allora, nel wizard installazione al passo dove si sceglie il disco dove installare, selezionare quello esterno invece di quello principale del pc. Ecco qua. Quindi fate conto che io sono nella macchina virtuale che simula il vostro pc, di solito il disco principale del pc finisce con la lettera A, in questo caso è il disco SDA, il disco principale della mia macchina virtuale che coincide col vostro disco principale del vostro pc. non è quello ovviamente sul quale andiamo a lavorare, ma andiamo a lavorare sul B, che è quello esterno appunto. L'SDB, eccolo qua. E cosa dobbiamo fare? Quindi abbiamo scelto l'SDB e adesso dobbiamo creare una nuova tabella di partizionamento, quindi dobbiamo pulire qualsiasi situazione ci sia su questo disco, che siano solamente documenti, che sia un sistema operativo preesistente come nel mio caso, noi vogliamo partire da zero. Quindi ripugliamo il disco, ricreiamo tutto come si deve. Io appunto, come vi ho detto, vi mostro la strada generica che funziona sempre. Allora, selezionato il disco, magari sposto un attimo la finestra, ecco, creiamo una nuova tabella partizione con questo pulsante. Ecco, rispetto all'installazione standard, classica, sul disco principale del proprio pc che vogliamo svuotare e riempire solo con Ubuntu, questi sono i passi che differiscono. Allora, è stato selezionato un intero dispositivo da partizionare. Procedendo nel creare una nuova tabella di partizione, tutte le partizioni naturalmente presenti saranno rimosse. A noi va benissimo, diciamo di sì. Voilà! Vedete che il disco B, quindi il nostro disco esterno, ci dice che adesso ha tutto spazio libero, i nostri 200 giga sono completamente liberi. perfetto, quindi dobbiamo creare una nuova tabella di partizionamento con una partizione principale, senza complicarci troppo la vita con le partizioni, quindi creeremo una partizione singola, grossa, che parte dalla struttura d'albero delle cartelle root e poi una corrispondente alla quantità di memoria RAM del vostro pc che è di tipo swap. Quindi questo passo lo faccio adesso, quindi si seleziona lo spazio libero ovviamente che vogliamo partizionare, si fa più, quindi più per aggiungere una nuova partizione e diciamo che questa partizione è tutto il disco meno uno spazietto che lasciamo per la swap, che di solito è uguale alla RAM, quindi io nella mia macchina virtuale ho dato un giga, vedete 1024 MB che è un gigabyte di RAM, di memoria RAM. Nel vostro pc ce ne saranno, non lo so, quello che volete, 2, 4, 8 GB, in corrispondenza togliete dal totale del disco quello spazio lì. Adesso non deve essere proprio con il bilancino del farmacista, diciamo 1024, noi da 200.000 possiamo dire che possiamo anche lasciarne anche di più, adesso qui, ripeto, non deve essere proprio col bilancino del farmacista, diciamo che da 200.000 io dico di usarne 198.000, quindi lascio 2 GB più o meno, per il sistema disco principale, 198.000, faccio ok, file system EXT4, va benissimo, inizio di questo, così come lo vedete, primaria, inizio di questo spazio, file system EXT4, qui selezionate l'inizio dell'albero delle cartelle di Linux che è la root, questa slash, la barra, e fate ok. Ecco, fra un attimo dovrebbe aggiornare la situazione, ecco qua, vedete, aggiornato la situazione, è più o meno 2 GB, ecco, io ho detto, corrispondente alla RAM, ma nulla proibisce che sia un po' più ampia, fa niente, non è così importante, il giorno d'oggi con tutta la RAM che c'è, la swap ha anche perso un po' di importanza, però ci vuole, per far funzionare tutta questa procedura, ci vuole, bisogna indicare una swap, e quindi noi lo facciamo, ecco, lo spazio libero rimanente, appunto aggiungiamo una nuova partizione, facciamo più, qui mette già lui logica, inizio di questo spazio, qua selezioniamo tipo di file system, che è, adesso qua non lo si vede perché la finestra, ecco, è meglio che faccio così, o non qua, ma qua, ecco qua, area di swap, scegliete questo, e fa già tutto lui, fate ok, e siamo a posto, abbiamo concluso il punto più difficile, questo qui è sicuramente il punto più impegnativo di tutta la procedura, ed è già finito qua, siamo pronti per procedere, ecco, allora, il nostro bel disco B, abbiamo detto, prepara una partizione principale dove ci sarà sistema e documenti e dati, e una piccola area di swap che ci vuole, eccoci qua, quindi il punto 6 è il più pesante e complicato, l'abbiamo concluso brillantemente. passiamo al punto 7, quindi questo è molto importante, anche questo, anche se non è complicato come punto, nella tendina dove si sceglie dove installare il bootloader, ovvero la parte di sistema che permetterà ad Ubuntu di partire dal disco esterno, si deve selezionare il disco esterno, appunto, perché noi questo bootloader, cioè la parte software che fa partire il sistema Ubuntu, lo vogliamo sul disco esterno stesso, sennò che senso avrebbe installare Ubuntu sul disco esterno senza poi avere quella parte che permette di partire, che gli permette di partire, quindi da questa tendina qua, vedete, device per l'installazione del bootloader, non il nostro SDA, che è il disco del nostro PC principale, ma il nostro SDB, disco esterno, naturalmente, eh, non la sua partizione, ma il disco proprio, eh, SDB, eccoci qua, siamo a posto, e riconosco anche dal nome che è il disco esterno, ma questo è un dettaglio, comunque, lettera B, SDB, il disco esterno, quindi siamo pronti, abbiamo fatto anche il punto 7, e adesso il resto dell'installazione è assolutamente identico, diciamo la parte complessa, diversa dall'installazione normale è fatta, possiamo andare con installa, selezionato il disco B, B, installa, ecco che ho dimenticato una cosina, vediamo un po', il file system su SDB1 assegnato a, non è stato impostato per essere formattato, direttore exontenenti, ta ta ta, verranno eliminate, dunque, si curasse di avere una copia di tutti i dati, ok, ho capito, eh, prima di andare avanti, quindi, questo è un messaggio che normalmente non appare se avete, partite con un disco vuoto, nel mio caso sono partito con un disco già occupato e c'è questo cecchettino, questa opzione, formattare sì, quindi noi vogliamo proprio pulire il disco che ho scordato prima, vedete lui vi avvisa di tutto, da una parte didatticamente meglio che mi sia uscito questo messaggio così, ecco, ho attivato, vedete, ho attivato di formattare questo, la swap si arrangia per conto suo, è grigiato, non posso attivarlo, ma il disco dove andranno i dati, il sistema, devo dirgli si formatta così siamo sicuri che lo pulisce per bene, quindi ripartiamo, b, b, installa, ecco, voilà, il resto dell'installazione, come dico qui nel punto 8, è assolutamente identico e lui sta già lavorando, quando crea il file steam, vedete, l'installatore sta già lavorando, no, qui sotto, e io vedo qui che sono seduto accanto al mio disco esterno che sta tremando la sua lucina, in realtà vedete che il disco qua, della macchina virtuale, che sarebbe poi il disco principale del vostro pc sul quale state facendo il lavoro, è assolutamente fermo e tranquillo, perché? Perché sta lavorando la porta USB, la vedete qui, la porta USB sta lavorando e sta lavorando il disco esterno, perfetto, quindi andiamo pure avanti, giusto per questo punto l'installazione è normale, potrei anche finire il video qui, ma giusto per completezza, andiamo avanti, va, ancora un passettino per far vedere che in realtà non cambia assolutamente nulla, andiamo avanti, qui tastiera, diciamo che a me non va bene questa, dov'è, dov'è la mia tastiera? Svizzera, tedesca, svizzera, svizzera, francese, per me naturalmente, per voi sarà italiano quello del vostro paese, ovviamente, qui ripeto intanto che aspetto che il sistema risponda, non cambia nulla da una normalissima installazione, vedete, i passi sono uguali, qui metto soliti dati, qui posso mettere il sistema, magari giusto per sfizio, lo chiamiamo il nome del computer Ubuntu esterno, Ubuntu esterno, va bene dai, non stiamo a complicarci la vita, Ubuntu esterno, Ubuntu esterno, Ubuntu esterno, ecco richiedere la password personale per accedere sempre, e fossimo in un'installazione effettiva, attivate almeno questo, almeno la cifrare la cartella personale, a maggior ragione che si tratta di un disco esterno, o magari di una chiavetta USB che potete facilmente perdere, dimenticare, o vi possono facilmente rubare, proteggete i vostri dati, non fate accedere il vostro sistema automaticamente, ma fate richiedere la password, e cifrate la cartella personale, adesso io non lo faccio perché appunto voglio andare avanti e concludere il video, ma mi raccomando, prendete le vostre precauzioni, quindi da qui in avanti se non sbaglio non chiede più nulla, ecco, e qui basta solo aspettare che finisca l'installazione, ecco, quando è finita l'installazione vi esce praticamente questo, come penso sappiate, se avete già installato Ubuntu almeno una volta, vi esce questo che è, ecco, quando ho finito di installare vi esce l'installazione terminata, voilà, quindi a questo punto avete il vostro disco esterno che è assolutamente un sistema Ubuntu indipendente dal vostro PC, è tutto lì, e a questo punto potete spegnere il vostro PC, io spegnerei la mia macchina virtuale fosse il caso, spegnete il vostro PC per poi provare a riaccenderlo, sempre connesso il vostro disco esterno con il sistema di cui vi ho detto all'inizio del video, come per la pennetta USB, premete il vostro tasto che richiama il menu di partenza dell'unità disco e questa volta selezionate il disco esterno, fate partire il vostro PC dal disco esterno e vedrete che, come ho detto all'inizio, il vostro PC metterà a disposizione tutta la sua infrastruttura ad eccezione del suo disco, perché tutto partirà dal disco esterno e sarà come usare un sistema Ubuntu sul vostro PC, ma dal disco esterno, tutto lì, vedete che intanto qua sotto sta andando avanti l'installazione, bisogna solo aspettare che finisca, finito, a posto, ecco, concludo questo video, naturalmente non aspetto che finisca l'installazione perché questa è cosa nota e sarebbe altremodo noioso e inutile allungare il video per niente, come ho detto concludo questo video, spero che sia utile a qualcuno di voi, che sia stato interessante, vi saluto, alla prossima, ciao ciao!